Perché siete a manifestare qui davanti al Palazzo della Consulta? Perché la voce di quasi 600.000 cittadini era stata inascoltata, perché sono state raccolte delle firme e che a simbolizzare quanto sia contraria a qualsiasi tipo di interesse questa legge Fornero, che è assolutamente un disastro, e siamo qui a manifestare perché la Consulta ha preso una decisione che a questo punto noi la riteniamo politica. Era una decisione che avrebbe messo in crisi questo governo e a questo punto si pensa che questa decisione abbia influito a questo punto sotto un profilo quasi politico. Noi abbiamo voluto fare questa manifestazione perché vogliamo essere vicini a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori, a tutti gli esodati e a tutti quelli che hanno patito delle conseguenze dannose per questa legge.